Ciao, voglio parlarti in questo video della trappola della perfezione. Cos'è la trappola della perfezione? Spesso noi siamo schiavi di un meccanismo narcisista-perfezionista, per cui non ci rendiamo conto, ma siamo bloccati nelle situazioni, nelle relazioni, perché andiamo a cercare la perfezione negli altri e in noi stessi. È solo un meccanismo di difesa che ci permette di precludere, di vivere ad esempio una storia d'amore, perché andrò a trovare dei difetti in tutte le persone, cioè avranno qualcosa che non va bene. E se trovassi la persona perfetta, allora sarò io non andare bene. Questo meccanismo narcisistico, questa trappola della perfezione, ci impedisce di essere felici. Per cui bisogna accettare che un'altra persona è diversa da noi, ognuno ha dei difetti, anche noi dobbiamo essere tolleranti, sia con gli altri, sia con noi stessi. Se non impariamo ad essere tolleranti con gli altri e con noi stessi, non riusciremo mai in nessun caso ad essere felici, a raggiungere una situazione di benessere e di tranquillità. Bisogna lasciarsi andare, bisogna ogni tanto far sì che le emozioni prendano il sopravvento, mantenendole, gestendole, ma vivendo la vita a livello più semplice, più emotivo. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!